partete in vantaggio si porta checkmark nei confronti di baby chris quindi red eclipse poi segue a largo gold chef quindi ancora drag cavalli ora lungo la curva con checkmark in vantaggio nei confronti di baby chris poi segue polar suite ancora per linee interne red eclipse più a largo golden chef siamo in retta d'arrivo non ha problemi ad allungare checkmark che prende il largo a metà addirittura e si isola al comando nei confronti di baby chris sotto la minaccia esterna di polar suite non ha problemi checkmark che in scioltezza conclude nel più facile dei modi con circa 10-12 lunghezze di vantaggio nei confronti di baby chris che precede all'interno golden chef e a largo fruit splash rivediamo il tre al primo posto uno al secondo per il terzo posto sarà meglio aspettare il risponso del giudice d'arrivo grazie grazie grazie